Il processo di permeazione da parte dell'intelligenza artificiale anche nel settore medico, come in tutti gli altri ambiti della società, è inarrestabile ed è anzi auspicabile una sempre maggiore sua evoluzione al servizio degli operatori della sanità, che restano i principali artefici dell'azione medica. E' il messaggio principale del congresso nazionale SIPAD, la società italiana delle patologie dell'apparato digerente, che si è svolto per la prima volta in Calabria a Rende, all'Unical. Un congresso che ha visto la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali su tematiche che riguardano la patologia dell'apparato digerente. Sono stati affrontati temi sul trattamento dei tumori, del fegato, intestino, stomaco, pancreas e quindi è stato un modo per confrontarsi con colleghi di tutta la regione d'Italia, con i colleghi dell'ospedale annunziata di Cosenza, per mettere a confronto le strategie terapeutiche comuni. L'assise congressuale ha avuto un prodromo in un incontro con gli studenti delle scuole superiori e delle branche mediche dell'Università della Calabria, in cui si sono affrontati i temi della donazione del sangue, del midollo osseo, degli organi. Il congresso, il cui tema principale è stato improntato a innovazione e soluzioni tecnologiche nell'era dell'intelligenza artificiale, si è sviluppato in tre giorni di intense sessioni scientifiche. L'intelligenza artificiale ormai è un qualcosa di cui non si può fare a meno, perché siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi abbiamo bisogno di tecnologie digitali, di tecnologie avanzate, dell'uso del robot, dell'uso di tecniche meno invasive e siamo contenti di avere, grazie al Rettore dell'Università di Cosenza, oltre che il commissario straordinario dell'ospedale di Cosenza di Salazar, questo accordo Università-ospedale e l'uso anche del robot, che aiuta molto nello sviluppo della sanità calabrese. Le relazioni hanno interessato gli aspetti più diversi delle patologie dell'apparato digerente, anche al di là dell'impiego dei robot. Credo che il nostro approccio multidisciplinare alle malattie dell'apparato digerente possa servire nella vita di tutti i giorni, nelle malattie che dobbiamo affrontare e sicuramente per i pazienti che poi ne beneficiano. A margine dei lavori scientifici sono stati consegnati due premi intitolati ad altrettanti prestigiosi chirurghi che hanno lasciato un segno indelebile nella chirurgia calabrese. Ludovico Docimo e Antonio Petrassi. Ludovico Docimo e Antonio Petro